Beh, Inter-Sassuolo è stata una partita che ha offerto tantissimi spunti di interesse ne vorrei parlare insieme a voi se avete la pazienza di ascoltarmi così confrontiamo anche le nostre idee e vediamo cosa ne esce voi Allora, gli italiani sono fatti così io ho seguito la partita anche tramite tweet ho visto insulti di ogni tipo nei confronti di Conte ancora prima di far terminare il primo tempo e Biraghi non può giocare a calcio e cosa vuoi fare se scendi in campo con Ranocchia, Borca Valero, Moses le solite sciocchezze prive di ogni valenza tecnica ovvero questi giocatori non potrebbero giocare neanche in Serie B quando sarebbero stelle assolute in una serie cadetta sempre più povera perché ovviamente nella ripartizione dei diritti televisivi le squadre della cadetteria prendono sempre meno e infatti poi quando salgono in A puntualmente sono delle squadre materasso quindi le solite cose all'italiana poi l'Inter ribalta la partita e allora va tutto bene ridiventano tutti forti, Conte ridiventa il miglior allenatore del mondo io ovviamente cerco di essere un pochino più equilibrato dico che il Sassuolo è una squadra veramente fantastica quando si tratta di valutarla solamente per i movimenti che produce nella fase offensiva ma poi spesso su dieci occasioni da gol che crea ne concretizza solamente una e chiaramente così è difficile difficile perché poi c'è anche una fase difensiva dove spesso è un colaprodo e anche stasera onestamente abbiamo assistito a questo il fallo di Boga è stato veramente ingenuo l'azione tra Sanchez e Biraghi è stata splendida gol bellissimo, gol da Cineteca per l'azione però è anche qui veramente difesa del Sassuolo inesistente quindi questa gara ha confermato che il Sassuolo è una bellissima realtà perché non si chiude e prova a giocare al calcio che Conte ha azzardato facendo questo massiccio turnover signori però quando tu vai poi a giocare ogni due tre giorni questi non sono calciatori di playstation sono calciatori in carne e ossa, calciatori reali e quindi non è che puoi rendere sempre al meglio se giochi ogni due tre giorni non sono robo e quindi il turnover è francamente inevitabile